Si abbia il seguente integrale e se ne consideri la prima parte in giallo. Si consideri la funzione razionale fratta y n di x fratto di dx con m grado di n, n grado di d ed m maggiore o uguale di n. Tale funzione può essere riscritta come somma del quoziente più resto fratto divisore. Pertanto l'integrale diventa n di x su d di x in dx uguale l'integrale del quoziente di x più l'integrale del resto fratto del divisore. Prendiamo in esame allora la nostra funzione razionale fratta e andiamo a svolgere la divisione. 4x alla terza su 2x ci dà 2x quadro e proseguendo come nel video si poi vanno a calcolare gli altri termini. Il nostro quoziente è 2x quadro meno 3x più 9 mezzi. Il nostro resto è meno 17 mezzi. Il nostro divisore è 2x più 3. Riscriviamo in maniera ancora più chiara quello che abbiamo appena affermato. Ne consegue quindi che il nostro integrale è proprio pari all'integrale del quoziente più l'integrale del resto fratto il divisore. Ovviamente il resto è meno 17 mezzi. Applichiamo quindi banalmente la integrazione immediata e vediamo che rimane essenzialmente l'integrale di dx fratto 2x più 3. Moltiplichiamo e dividiamo per 2 per avere al numeratore la derivata prima del nostro denominatore e poter riscrivere tutto come logaritmo del modulo di 2x più 3, più costante di integrazione. Bene, questo è il risultato del primo integrale. Procediamo adesso con il calcolo del secondo integrale. Valutiamo il denominatore e pertanto calcoliamone il discriminante che è uguale a 1, quindi è maggiore di 0. Pertanto il denominatore può essere riscritto in questa maniera. E ancora meglio, la parte che ci interessa di più è quella di poter vedere il nostro integrale come decomposizione di somma di due frazioni elementari. Quindi procediamo, andiamo a riscrivere il tutto e vediamolo come somma di due frazioni elementari, dove abbiamo l'incognita A e l'incognita B. Svolgendo qualche calcolo si ottiene che il termine che moltiplica la x è A più B e il termine noto è meno 2A meno B. Pertanto, siccome abbiamo 0x più 1, la somma A più B deve darci 0, mentre meno 2A meno B ci deve dare esattamente più 1. Si mette a sistema e si trovano le soluzioni A uguale meno 1, B uguale 1. Pertanto il nostro integrale diventa l'integrale di dx su x meno 1 che è meno logaritmo del modulo di x meno 1 e l'integrale di dx su x meno 2 che è logaritmo di modulo di x meno 2. A questo punto ci siamo trovati le due soluzioni, riprendiamo l'integrale di partenza e a questo punto prendiamoci la prima soluzione, la incolliamo, la rimoduliamo come dimensioni per renderla omogenea e andiamoci a sommare la seconda soluzione che abbiamo appena trovato e questa è la soluzione definitiva dell'integrale di partenza. Spero che il video possa essere stato di vostro gradimento.